E' stata firmata una convenzione in comune a Pescara per la gestione di due importanti musei cittadini, Museo del Mare e Museo Cascella, che saranno gestiti dalla Fondazione Museo delle Genti d'Abruzzo Longhi. Sì, è un ottimo passo in avanti, è il primo punto per la creazione di una rete museale cittadina, quindi un fatto nuovo e innovativo per la nostra città che ci contraddistingue non solo da un punto di vista di migliorata fruizione degli spazi culturali, ma anche per rinnovare una vocazione turistica che speriamo anche attraverso una rinnovata gestione, quindi una maggiore apertura dei musei, speriamo nei giorni festivi, ma anche nei giorni feriali, quindi questo è un provvedimento che permette alla Fondazione Genti d'Abruzzo quindi di ampliare la sua offerta sulla didattica, sull'apertura dei servizi e che, come detto, è il primo punto, ad esempio siamo già pronti, e speriamo che la Fondazione al più presto riuscirà a fare entrare in vigore il biglietto unico per le strutture museali, che probabilmente è il vero punto di innovazione di questo affidamento e di questa nuova gestione con cui appunto si potranno visitare tutti i musei cittadini, chiaramente il Museo del Mare, il Museo Cascella e il Museo Genti d'Abruzzo con un unico biglietto, quindi sicuramente una grande innovazione e una nuova pratica comunale. Come amministrazione comunale già da tempo avete puntato sul rilancio di queste strutture, soprattutto sul Museo del Mare? Sì, noi sul Museo del Mare abbiamo un progetto di completamento, perché adesso è utilizzabile solo la parte inferiore, il piano terra, cheppure è molto visitato soprattutto dalle scolaresche ed è tuttora, nonostante questo, il museo più visitato della nostra città. Contiamo con la nuova gestione e con i lavori che per un porto abbastanza cospicuo ne permetteranno il completamento di migliorare ancora di più questa offerta.